Sono ripresi gli allenamenti degli squali agli ordini di Davide Nicola dopo la vittoriosa trasferta di Pescara e dopo il lunedì di riposo, giustamente concesso dal tecnico piemontese ai suoi uomini. Il primo allenamento settimanale si è svolto sul manto erboso ristecato di Cutro nelle prime ore pomeridiane ed ha visto coinvolta tutta la rosa tranne Adrian Stoian ancora ricoverato presso il reparto di neurologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Aspettando le prime impressioni sul prossimo avversario, l'udinese di Gigi Del Neri, ci concentriamo sull'autore dell'Euro-Gol che ha permesso ai Rosso Blu di espugnare l'Adriatico, Alexander Tonev. A seguire il pensiero di Zdenek Zeman, allenatore dei Biancazzurri. Sono contento per me, per il gol, ma soprattutto per la squadra. Abbiamo vinto, guadagnato tre punti, ma dobbiamo essere già pronti per la prossima partita e dimenticare questa. Certo, crediamo nella salvezza. Abbiamo tre partite, con squadre molto forti, ma dobbiamo vincere. Se ci riusciamo, restiamo in A. Sì, per me è un gol normale, sono abituato. Pensano che sono mancino, ma sono destro, dovresti saperlo. Cerca su Google. Sono ambidestro. Comunque per me è normale, perché ho fatto più o meno cinque gol, come questo. Io per oggi non la farei tanto negativo. Io ripeto, noi penso che abbiamo fatto meglio di crotone. Poi uno indovina, tiro nel sette da trenta metri e noi purtroppo tiriamo mezzo la gente. Però come atteggiamento ci abbiamo provato. Purtroppo noi per fare gol non ci riusciamo perché non abbiamo quelle giocate che ci permettono di entrare dentro l'area di rigore senza palla. Quindi poi il resto, impegno c'era, non si può dire che non si sono impegnati. Poi è normale che dopo espulsione di Benari già dovevamo rischiare qualche cosa e non ci è riuscito. Noi attualmente stiamo valutando. Valutando i quelli che ci sono e quelli che ci interessano. È sempre brutta cosa. Io ripeto, i ragazzi perdono la testa. Se si vince una partita durante tutto campionato penso che li pesa. Pesa più a loro che a quelli che non ci sono dentro e se si sente penalizzato reagisce e purtroppo reagisce male. Gilardino ci sembra di aver capito che se stesse bene a lei piacerebbe per l'anno prossimo. Ci aspettavamo che forse poteva rientrare, era rientrato in gruppo ma non è ancora pronto. A che punto è? E purtroppo per noi è appunto che non è pronto. È un giocatore che faceva differenza che è un attaccante. Purtroppo se ha giocato mezz'ora di campionato vuol dire che ha qualche problema. Attualmente si sta allenando, si sta impegnando ma non ci riesce. Intanto da oggi, mercoledì 10 maggio, è iniziata la vendita dei tagliandi per Crotone Udinese di domenica 14 maggio ai seguenti prezzi. Tribuna centrale sia alta che bassa al prezzo di 40 euro mentre 30 euro per la tribuna laterale sia alta che bassa. 15 euro invece il prezzo del tagliando di curva. Per l'occasione l'FC Crotone comunica che anche la curva nord sarà aperta ai tifosi locali vista la bassa richiesta dei tagliandi del settore ospiti. Siamo stati presso il Tennis Club Valentino dove si è disputata la terza giornata del campionato maschile classe D1 di tennis e anche la prima giornata per quel che riguarda il campionato femminile. Allora oggi si disputava la terza giornata di campionato per quanto riguarda il maschile. DU categoria D1, fino adesso le abbiamo vinte tutte e la prima giornata di campionato D1 femminile che anche oggi abbiamo vinto 4 a 0. Noi uomini siamo stati oggi graziati dal fatto che il Castro Villari non si è presentato. Graziati no perché comunque venivamo da due vittorie per 4 a 0. Quindi quest'anno abbiamo come obiettivo di puntare quantomeno a provare a vincere il campionato. Quindi con questa vittoria di oggi siamo qualificati a settembre per la fase di eliminazione diretta dove ancora dobbiamo disputare l'ultima gara di campionato il 28 maggio a Rende e ci giocheremo il primo e il secondo posto del girone. Sono anche io parte di questa squadra, faccio parte dei tanti singolaristi, siamo tutti titolari, non c'è nessuna riserva. Chiaramente ci alterniamo in base alle caratteristiche della squadra avversaria e in base appunto al nostro stato di forma. Quindi io che dire, faccio i complimenti alla squadra perché ha raggiunto le fasi finali di appunto di questa competizione a squadre e quindi siamo pronti per affrontare queste finali. Quest'anno faremo bene, sono sicuro che arriveranno fino in fondo in questo campionato di D1 e per la prima volta il Tennis Club Valentino potrà approdare nel campionato tanto ambito che quello della Serie C e siamo a buon punto. Quest'anno ho avuto il piacere di essere iscritto alla categoria più alta, la prima squadra del tennis crotonese. Dati alla mano, classifiche alla mano, ho il piacere di partecipare a questo torneo con i giocatori più forti credo di sempre del tennis crotonese, classifiche alla mano. Mi sto molto divertendo. Quest'anno abbiamo raggiunto un risultato innanzitutto anticipatamente alla salvezza rispetto a tutti gli altri anni e poi soprattutto, come diceva Daniele prima, ci giochiamo una grossa fetta di qualificazione e di ingresso alla Serie C che è una cosa che non si era mai vista prima per il tennis di Grotone. E voglio dire che da seguire soprattutto anche il tennis femminile, abbiamo una squadra fortissima, Martina Silipo, Federica Russo, si sono unite Angela Scarfò quest'anno, quindi possibilmente come potenzialità in rapporto a quelle che sono le previsioni e le squadre del tennis femminile hanno anche più probabilità di noi.